Dopo aver portato in giro per il paese la buona musica italiana toccando città come Bologna, Firenze, Pisa e Milano, per la sua sesta edizione il Color Fest ha fatto tappa in Calabria, Platania, in un agriturismo a pochi chilometri dal cuore del parco naturale. Questo posto così suggestivo ha accolto pubblico ed artisti per due giorni di concerti, mostre, reading e DJ set. Il festival, con una linea musicale strettamente indie, vanta partecipazioni di tutto rispetto come quelle di After Hours, Verdena, Brunori Sass, Marlene Kunz, Marta Sui Tubi, Lo Stato Sociale ed anche quest'anno il cartellone non ha deluso i tantissimi giovani che hanno assistito alla rassegna. Uno spettacolo musicale unico nel suo genere con voci autorevoli della Sardegna contemporanea come Io sono un cane e Paolo Angeli, esempio di come la tradizione debba trovare nella società attuale un'evoluzione dei suoi linguaggi arcaici, collocandosi nel difficile confronto col presente. Molto apprezzati anche due giovani della nuova leva degli autori italiani, Marco Galeffi, nuova punta di diamante di maciste dischi, e Federico Cimini, calabrese trapiantato a Bologna, nuovo acquisto della scuderia Garrincia, penna ironica e intelligente di una nuova leva di autori italiani. E poi Willy Peyote, uno dei più interessanti ed innovativi nomi della nuova scena hip-hop italiana. E l'ultimo, promettente acquisto di Bombadischi, l'ex frontman dell'officina della camomilla Francesco De Leo, all'esordio col primo album da solista. E ancora il producer toscano Clap Clap, che giocando con la World Music ha conquistato le attenzioni del pubblico e della critica di tutto il mondo, scomodando nei giudizi persino un peso massimo come Paul Simon. In queste sei edizioni il cartellone si è fatto via via sempre più ricco facendo del Color Fest una manifestazione in crescita esponenziale, capace di miscelare sapientemente concerti, mostre, presentazioni di libri, incontri, e talk all'insegna di una forte indipendenza, che ogni anno stupisce per ricchezza dell'offerta e per la qualità proposta.